Salve a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Raffaella Sims ed eccoci qua in un nuovo video. Allora, bentornati in un nuovo video che però sa di nuovo, ovvero perché sa di nuovo? Perché oggi andremo a scoprire una nuova famiglia, nuova famiglia che ci terrà per un po' compagnia, che sono la famiglia Vladisca, una delle tante famiglie Vladisca, perché in realtà è una generazione che va avanti e qua andremo a vedere una dei protagonisti che porta questo cognome. Sarà quindi una nuova serie, sarà interessante, a parte per lo scenario che comunque lo scenario è Moon o Wood Mill, spero di averlo detto bene, dove si trovano i nostri personaggi e perché si trovano in questo scenario? Perché sono tutti e tre, compresi il bebè, dei lupi mannari. Eh già. Lupi mannari, licantropi, chiamatevi come volete. Sta di fatto che sono dei sim occulti. È una famiglia nascente. C'abbiamo anche un bebè. Quindi è tutto una nuova scoperta. Infinite possibilità di storia e di trama che andremo a scoprire insieme. Insieme plasmeremo la vita di questa famiglia. E adesso vi porto a fare la loro conoscenza. Ci troviamo ovviamente in una giornata pessima e piovosa per fare questo video. Speriamo che il meteo cambi, ma non so. Questa è la casa dove vivono i nostri amici che il video è appena iniziato e già stanno dimostrando che non sono una famiglia normale perché lei si sta facendo la doccia nel momento in cui io sto spiegando chi sono. Vabbè, al di là che lei si sta facendo la doccia sotto la pioggia, loro vivono qui e voi mi direte Ma che casetta piccola! Come fanno a vivere qui? Perché questo è un lotto che trovate nel video sul canale che si chiama, l'ho chiamato Baracca Mannara ovviamente è anche scaricabile lo trovate nella galleria di The Sims 4 nel mio profilo o comunque se andate sul video dove vedete la costruzione di questo lotto c'è il nome, avete varie modalità per trovarlo c'è una parte sotterranea, si chiama Baracca Mannara proprio perché da fuori doveva sembrare una baracca proprio sotto c'è tutta la casa è praticamente una casa sotterranea guardate che carina, ha il suo stile questa è la cameretta del bambino che adesso andremo a conoscere è dolcissimo, è una roba vergognosa la cameretta per quando sarà più grande e poi, visto che sono dei lupi mannari abbiamo la particolarità se riesco farò un video a parte in cui vi spiegherò il sim occulto licantropo come è fatto ma nella serie già capirete che loro sono degli animali diciamo così e quindi possono vivere cioè possono vivere praticamente senza avere una casa all'aperto possono dormire per terra fare la pipì per terra insomma è come se fossero dei cani quindi c'è un letto ma diciamo che lo usano poco e allora c'è una stanza che sembrerebbe inutile ma diciamo è una sorta di camera da letto per dormire per terra il bagno e poi c'è tutta una zona aperta una piccola cucina una piccola sala studio un po' un ambiente unico e adesso vi farò vedere chi sono facciamo rientrare lei i componenti di questa famiglia e i protagonisti della storia che verrà lei è Anita che adesso è un po' triste perché ha fame Anita è diciamo il fulcro di questa famiglia perché? perché intanto è l'unica che ha un passato cioè lei non è diciamo l'ho creata e l'ho ficcata nel gioco lei ha una mamma ha un papà aveva una mamma e un papà veramente ha un passato ha una sorella suo marito è in realtà un personaggio che era presente nello scenario dell'espansione dei licantropi che però adesso vedete è diverso perché io l'ho modificato fisicamente l'ho reso un po' più caruccio ha un nome del cavolo Wolfgang lo chiameremo Wolf per gli amici ed è anche arrabbiato perfetto lui è il marito della nostra Anita e poi guardatelo scusate io davanti all'attante li rincoglionisco lui è Balto lo so se volete vi cedo i diritti per chiamare anche voi ma sicuramente tanti avranno avuto l'idea di chiamare Balto un bambino che è un lobo mandaro e guardate che cosa non è un uomo sta sbloccando cose mentre io sto mentre io sto raccontando di lui guardate che corino è il loro figlioletto è un lattante corinissimo è un amorino scusate purtroppo quei lattanti io farò sempre farò sempre così quei lattanti quindi preparatevi come vedete c'è un albero genealogico da cui deriva un po' un sacco di gente però noi parliamo un po' di lei viene da la mamma che si chiamava Maxime e dal papà che si chiamava Marcus loro due hanno avuto hanno avuto prima Lucy Lucy è la sorella di Anita fuori dal matrimonio il padre ha avuto un altro figlio quindi in realtà avevano un fratellastro che è morto per vecchiaia ma perché è morto per vecchiaia semplicemente in realtà è nato dopo di loro perché non lo volevo più usare e l'ho lasciato morire di vecchiaia che a pensarci adesso sarebbe stato buono averlo tra di noi però purtroppo quando ho fatto questa scelta non registravo ancora i video quindi addio Adam il fratellastro delle nostre due sorelle io qua avrei dovuto iniziare a fare dei video molto tempo fa ho fatto degli intrecci che non ve ne fate in idea perché il padre e la madre di Anita e della sorella hanno lo stesso cognome la famiglia Vladisca ecco bisogna partire dall'inizio inizio inizio se no non si capisce mettetevi comodi la famiglia Vladisca parte da lei Tatiana Vladisca in realtà lei ha avuto tre figlie ora io non so perché si è sparita la terza figlia penso per un bug di gioco queste due figlie hanno avuto loro stessi dei figli dopodiché sono parenti sì c'è stato un intreccio tra parenti sono tipo cugini di secondo grado sono parenti lontani perché sapete che tra cugini non si possono mischiare non ve lo fa fare il gioco invece loro sono cugini di figli di cugini e quindi li trovavo carini insieme stavano bene insieme li ho fatti sposare e allora sono andate loro due e poi lui tradito la moglie e ha fatto il fratellastro Lucy è sposata con Virgo e Virgo è un alieno da come si vede palesemente e hanno loro stessi anche dei figli la nostra Anita è anche zia chiudiamo l'albero genealogico perché c'è un casino mostruoso e quindi questa è la nostra storia ma non vi ho parlato bene di chi è Anita Anita ha un passato turbolento rispetto alla sorella lei della sua vita non sapeva che cosa fare ha preso una cattiva strada prima di diventare lupo mannaro perché lei era normale lei è nata da genitori umani quindi lei è diventata licantro poi sarebbe stato bello farvi vedere come lo è diventato ma vabbè lei ha vi dicevo un passato un po' turbolento perché ha questi tratti ovvero lei è cleptomane instabile vabbè amicona è l'unica cosa buona sono due tratti non tanto carini pensate la mamma di Anita era una poliziotta Lucy è diventata un agente segreto più o meno diciamo che stanno in un campo diciamo poliziesco insomma agenti segreti roba diciamo legale e vi direte perché perché lei ha fatto tutt'altro lei è diventata una ladra una ladra lei era diventata una ladra ed era anche arrivata a un buon livello di carriera a un buon livello perché era quasi diventato capo gang mi sembra una roba del genere e lei stava diventando un pezzo grosso diciamo della mafia però questo cosa stava creando che vedete lei ha una cattiva reputazione e la cattiva reputazione stava portando problemi in famiglia e fuori dalla famiglia cioè lei non aveva amici rubava in giro l'urfa ancora perché è cleptomane e quindi quando ho visto che la reputazione stava diventando così tanto cattiva ho detto no qua deve cambiare la situazione qua deve cambiare perché non voglio che lei prenda questa strada e ho deciso di farle cambiare strada però non ha titoli di studio incredibili non ha non è mai stata non ha mai fatto l'università non ha mai fatto grandi cose quindi per il momento davvero sta lavorando in un bar quindi un lavoro anche che non le prende tanto tempo così può anche poi tornare dal suo bambino guadagnano invece lui fa diciamo ha preso la carriera dello scrittore carriera che non gli ho fatto prendere io che aveva già di default e quindi questa è la storia la nostra Anita è un po' ha un carattere un po' difficile non è il tipico sim tutto a posto buono onesto lei combatte con se stessa dalla mattina alla sera proprio per questo motivo ha deciso un giorno di provare a prendere la strada del diventare un licantropo adesso sta male perché poi ci sono tutti gli stati umorali da licantropo chiamiamolo lupo mannaro che forse è meglio ha tutti gli stati umorali da lupo mannaro che la rincoglioniscono poverina non sapevo cosa fare della sua vita stavo quasi decidendo di fare come il fratellastro ovvero di lasciarla andare di non usarla più e usare solo la sorella e lei chi si è visto si è visto invece poi è arrivata l'espansione dei lupi mannari e ho detto Anita io so cosa farti diventare adesso e quindi Anita si è fatta mordere da un lupo mannaro lupo mannaro che in realtà è il famoso lupo mannaro che non mi ricordo come si chiama che sta anche lui in una baracca un simmo insomma molto misterioso che andremo poi a vedere si è fatta mordere da lui e adesso è un lupo mannaro lupo mannaro che adesso io immagino che voi siate curiosi di vedere la forma sia sua che di lui e io vi accontento ragazzi vi accontento perché è la ciccia è quella vedere vedere che si me qualcuno sistemi il lavandino vi prego e voilà ecco la nostra lupo mannaro questa è Anita versione lupo mannaro è un lupo mannaro nero poi io gli ho fatto questi disegnini in faccia io ho disegnato io ho messo la luna le stelline io ho fatto tutto questo trucco intorno agli occhi vedete è un po' nera e viola poi abbiamo il marito Wolf ecco la sua trasformazione beh un bel lupetto scuro anche lui molto più muscoloso di lei ha gli occhi azzurri diciamo luminosi e beh bello piazzato possiamo dire così il bambino è ancora piccolo lo sapremo crescendo che cosa diventerà e questa ragazzi è la storia una storia che non si sa in che direzione andrà che ha molti spunti di trama abbiamo un lattante a cui badare una creaturina nuova che sta cercando di crescere in questo mondo e ha due genitori che non sono propriamente alla normalità in questa nuova serie che uscirà insieme a quella di Omar ovviamente la serie nel ranch con Omar non è finita andranno insieme ovviamente la serie di Omar avrà una fine ma una fine di stagione chiamiamola così lui cioè non verrà stoppata sicuramente da questo nuovo gameplay con loro e quindi ragazzi questa è la storia molto interessante quindi spero che questa serie vi incuriosirà e la guarderete insieme all'altra serie inizieremo a giocare seriamente nel prossimo nel prossimo video questa era diciamo la video presentazione di questa strana famiglia se la cosa vi ha incuriosito vi invito a iscrivervi commentare farmi sapere quindi cosa ne pensate se se vi mette curiosità questa nuova serie vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto vi mando un saluto e ciao simmini ciao